Meno 5, 4, 3, 2, 1 Ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma Qui vediamo un cane staffetta usato per recapitare messaggi al trasmettitore di Montepenice Le antenne televisive danno l'impressione di una selva che copre le nostre città Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti